No, scusatemi se si scopriete il regolo di nuovo, però è toveroso che in questo momento prende la parola. Quindi Presidente, io non mi meraviglio quello che successe, quello che sta dicendo in città, perché eventualmente persone che sono state da dei equilibri particolari oggi vedono delle posizioni per fare la città, perché effettivamente come diceva Giovanni Teprete, una parte della maggioranza che è esattamente la città, e dicevano di meraviglio perché in questa città non sono lontane le elezioni. Perché dico questo? Noi stiamo vivendo ancora un po' di passione, dove noi ci dobbiamo dimenticare da certe persone che non c'erano, che il valutato sindaco del centro-destra ha accoggiato pubblicamente il sindaco del centro-destra. E la condizione che ovviamente ci portiamo a presto sta regnando anche in questo momento, in questo consiglio comunale. Poi diceva Emilio Polizio, l'amico Polizio, il sindaco, l'amministrazione deve prendere coscienza. E forse Emilio, l'amministrazione ha preso coscienza che non ha giurato a giurato. A soli cento giorni di questa consigliatura l'amministrazione calcola non ha più maggioranza. E questo lì si intospettisce per quello che state rivedendo qui dai nostri pazzi. Ci preoccupa? Sì. Però noi siamo coerenzi. Io sono d'accordo di scusare questo tema, sicuramente sono stato sempre coerenzi. A essere anche lanciato in quantità e se io ho fatto una battaglia insieme agli amici di un'opposizione che poi hanno cambiato lungo il corso, io ho assurdo che la metà. Perché, l'abbiamo detto in tutte le tante, questa amministrazione sta sperando della luna. Non ha un'ideacità, non ha un programma, non ha un progetto e non ha una maggioranza. E, conseguentemente, domani mattina non avrà nemmeno più una amministrazione. Perché se è vero che è vero, si è tornato a liberare proprio a sessore all'interno della propria maggioranza. Seguite a cento giorni di questa amministrazione calcola, già stiamo assistendo all'orvalutazione. Il video mi arriva a un'altra cosa, direte, non ha un'altra cosa, perché non sono così niente amareggiato, perché non l'ho aspettato. L'ho aspettato perché, ovviamente, sono di guadagnia, io gli esorto, la persona per bene che chi sta accanto si possa consigliare di fare il calcio del calcio, di fare la paglia, anche in modo giusto, perché la paglia è tutto bene, perché anche quella volta di metterci la paglia, non è in modo giusto, lo vuoi stare sperando che fosse davanti. Ma io vi auguro che non sia capitato. Questo è un calcio, è un calcio di infatti. Io, ovviamente, mi sento molto a favore, mi sento sempre poi di ascoltare, di ascoltare il video di questa persona. Grazie. Grazie.